UUH! WUH! WUH! Ciao a tutti, io sono Marco Scorano e signore e signori bentornati in una nuova puntata della Project Ozone 2 in K-MOD in Minecraft moddato tecnico, ma che bello! Nell'ultima puntata ragazzotti siamo andati dentro al nostro dirigibile a fare, eccola qua, una farbina morbida morbida di Villager e ho ricevuto tantissimi consigli da tantissime persone, quindi vi ringrazio perché mi avete tolto un grosso problema il problema qual è? Che io non potevo spawnare i Villager, potevo spawnare soltanto gli zombie Villager e un ragazzo mi ha detto, no più di un ragazzo mi ha detto, guarda che se prendi la Safari Net dopo che gli hai dato la cura questo coso spawnerà gli zombie che si stanno per curare e quindi da lì a riuscire a separarli il passaggio è davvero breve questo Shield Generator, vediamo un po' se lo vediamo subitissimamente oppure no si, pronto, è lentissimo, ci metterà 700 anni, quindi ve lo dico io semplicemente blocca i mostri aggressivi, non me ovviamente, il suo padrone lo riconosce e fa passare i zombie Villager, no scusate, i Villager, quindi questo qui è uno zombie Villager e Ciccio non va, viene spinto qui, ora adesso lui mi insegue, normalmente perché è uno stronzo però normalmente, se non ci fossi, finirebbe lì dentro, guardate, vedete, è diventato Elvis, è cascato nel buco oh yes, funziona signori, funziona, io adesso me ne vado lontano e lui viene trascinato lì nel buco pronto per essere trasformato eccolo là, in un villagero, perfetto, funziona alla grande e di qua abbiamo, come al solito, le novità ragazzi stavamo in live, a proposito stiamo in live anche questa sera alle 21 su Twitch, link a descrizione e abbiamo deciso, Shifty è contenta perché è appena uscita Orange is the New Black e non posso guardare, perché tu perdi una cuffia ogni 5 minuti amore mio e abbiamo deciso, anzi ho deciso arbitrariamente che il cubo di Tesseract, il Tesseractone gigante non mi piaceva più e un ragazzo ha detto, Marcus, perché non ritorni all'idea del fantasy io gli ho detto, sai che c'hai ragione, quindi ho deciso che prima o poi tutto questo fino a qui verrà distrutto, da qui dove vedete questa linea qua ci sarà il nero cancello con un pattern simile, però senza i blocchi di Dark Steel perché non si uniscono e a destra e a sinistra ci saranno queste piccole due torri, adesso io le ho fatte di stone per praticità, per vedere come poteste venire ed effettivamente non mi dispiace per niente quindi c'è l'isola medievale quella bella e poi c'è l'isola medievale quella cattiva al di là del nero cancello ci sarà una montagna e poi ci sarà la torre gigante di Sauron dove metteremo ovviamente l'hub dell'upled e cercheremo di distribuire le cose in modo che non facciano laggare come fanno laggare qui, perché come potete vedere con tutti questi cavetti, tutti i reattori nucleari, le coser, tutte cose, l'autocrafting laggo un pochino a merda se devo essere sincero ma non è ancora giunto quel momento, l'estetica la facciamo in live quindi andiamo a fare quello che c'eravamo prefissi di fare ovvero ottenere Reaper su una spada della Draconic mi stavo chiedendo come fare, mi sono messo a fare Villager per farlo per ottenere l'Enchanter che è questo qui Enchanter, dove sei, che come potete vedere ha bisogno del Villager Vial e quindi comunque è buono, l'abbiamo fatto la parola è venuta in mente, ma non è che tante volte se io incantassi direttamente la spada del Draconic potrei ottenere la stessa identica cosa quindi andiamo a fare 1, 2, 3, 4 e 5 poi ve lo dico perché faccio 5 signore e signori, facciamo Badabim e abbiamo, oh ma già ce l'avevo oh yes, fantastico, il Weaver Core facciamo così e otteniamo il Weaver Core Energy e andiamo a fare semplicemente così non abbiamo la spada di diamante la facciamo subitissimamente non abbiamo i diamanti WTF non abbiamo i diamanti perché perché c'è un piccolo autocrafting qui saluta Shifty che manda direttamente i diamanti qua quindi devo interromperlo vediamo quanto temperio anzi quanto daemon still abbiamo dove lo metto? l'ho messo qui sto un po' meglio con la gola ragazzi questo qui è di quarta magnitude oh oh niente niente bad niente bad 4 stack ed eccola qua la nostra spada della Viverna la spada base della Draconic Evolution molto 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 niente perché c'è quella cosa che sembra panna aranci da brutta mettiamola dentro la batteria potremmo trovare dentro la batteria un sacco di cose e andiamo a vedere se effettivamente questa mia pensata possa essere decente altrimenti faremo il coso classico andiamo ad enchantare bim 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 quindi no questo è un chunk loader non ho un enchanting table d'avorio come mais come è successo tutto questo butta dentro il mio liberculo per favore oppela eccolo qui e se non sbaglio se non sbaglio oh ma grazie ma chi ci aveva pensato che c'era una quest se non sbaglio di qua ma forse di qua l'avevo fatta dico bene o dico esatto non lo so vediamo un po' qui no si buongiorno ma si che l'avevo fatta eccolo qua abbiamo i nostri amici libercoli mettiamo qui anzi libreria non sono libercoli facciamo così e vediamo un pochino qual è il tuo problema il mio problema è che ragazzi non ho i livelli è da tantissimo che non metto a fare la farm di livelli ma è da tantissimo quanto stiamo qui 400 mila miliardi di bilioni di biliardi di biliardi di bilioni non dovrebbe essere un problema quindi certo si è fermata devo trovare un modignacolo per questa cosa mi dà fastidio devo fare il buco di qua perché aspettate hop 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 molto good facciamolo così e tappiamo di qua hop 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 perfetto allora andiamo a vedere se la nostra spada funziona mettiamo qui oh sharpness sono un po' triste allora da qualche parte ci dovrebbe essere un tasto per aprire questo inventario di solito i tasti purtroppo nei modpack sono sempre un po' casinati quindi devo cercarlo prima eccolo qua l'ho settato su add e potete vedere che possiamo andare nell'inventario e prendere l'iberculo con questo incantesimo quindi rimettere la spada e andare a cercare sto riper maledetto che non troveremo mai a questo punto se ogni volta devo fare così mi chiedo se non valga la pena di fare l'enchanter dell'enderio perché sì vabbè sharpness è tutto molto bello noback è tutto molto bello vediamo se siamo fortunelli un'ultima volta reaper 4 attenzione attenzione siamo stati fortunelli è strano è assurdo normalmente io non sono così fortunato però vabbè vediamo se siamo ancora ancora fortunelli perché se ci abbiamo un altro reaper 4 col cazzo col cazzo però questo metodo ti fa risparmiare un sacco di libri ragazzi avevo tanti 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 vieni qui dai l'ultimo ci riprovo reaper 5 non ho la voce sistemata la spada quindi ragazzotti abbiamo un bel reaper 5 un sharpness 5 un looting 3 andiamo dai nostri amici villager e speriamo di essere fortunati magari l'esperienza magari l'esperienza la lascio ciao ciao ma bella benissimo mamma mia sta tosse ci sta uccidendo allora ho sbagliato strada si era qui scusate ho avuto un momento di defiance buttiamo dentro le nostre experience che poi dovremmo in qualche modo autograftare da di là e andiamo dicevo dai nostri villageris con la nostra spada come attacco 3x3 no 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 non mi interessa l'attacco 3x3 come faccio a cambiarti ecco uno per uno è molto better è molto better shift smettila di ondeggiarle che potresti uccidere qualcuno guardate guardate oh yes ma perché vanno là stanno scappando da qualcosa stanno scappando da quello sono stati sfortunati mi dispiace amico mio forse riesce a salvarti vediamo ma perché va va laggiù si no non si è salvato non si è salvato purtroppo ma dove sta andando il nostro amico cosa stai facendo della tua vita eh uh buono peccato che non ci interessa signori oh yes oh yes e possiamo spammare sapete perché perché siamo in 1.7.10 non so se l'aria d'effetto colpisce tutti vogliamo provarci chi è che sta subendo danni ah c'è questo c'era questo cosino qui dentro andiamo un po' quasi quasi ci provo hop 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 oh oh già si è scaricata ma minchia già si è scaricata e non ho trovato niente sono un uomo molto triste signori vabbè allora mi metto a uccidere un bel po' di villageri ma con che cazzo vabbè mi picchi ah io mi picchiano vabbè ta-da ne ho uccisi tipo un bel po' e alla fine ne ho ottenuta soltanto l'iwan kenobi sono molto triste quindi mi sono detto hey marucus cron perché non vai nel nether ed ecco qui un piccolo mob spawner che è di blaze e presto signori arrivo in uno spawner di villageri diretto e sarà sempre sempre pace oh la facciamo così buongiorno mio caro si sono io prendiamo il dragonic core bam ci mettiamo questo aio stai calmo e aio scusi mi scusi mi scusi oh 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 no 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 lo sapevo che non lo dovevo fare lo sapevo che non lo dovevo fare no 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 mi scusi mi scusi al fuoco al fuoco al fuoco al fuochissimo al fuoco oh shit no aiuto aiuta 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 aiuto il fuoco il fuoco il fuoco il fuoco brucia i miei rievici ok no si forse forse ce l'abbiamo fatta no 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 aspetta aspetta ok no 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 ma porca la puttana ma la si è dei stronzi si è dei stronzi me l'avevano detto mi hai scritto me l'avevano detto me l'avevano detto ok 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 c'è un buco dentro è stato davvero terribile tutto questo ok va bene a parte questa piccola eeeh belli 5 a botta ma che quanto siete figli ma chi sei tu no 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 aspetta 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 no cazzo quello mi serve no come lo recupero adesso quello mi serve mi dai dimlet gratis non devo fare le farm merda come chiappo il mio amico villager così si si no no come si spegne questo affare ehi uh anche tu fermati ahio mi picchiano che cacchio io ho fatto io vieni ecco ma perché non lo prende quello no quel tipo non lo posso prendere tu che cosa fai no li ho uccisi tutti molto bene marucus cron molto bene vabbè vabbè me lo selezionerò a parte quel tipo di villagero adesso la cosa che ci interessa è che con uh c'è andata un'altra c'è andata già un'altra fantastico meraviglioso e che so che con il draconic il weaver corn qui opera lo faccio diventare tier 2 tecnicamente più veloce tecnicamente più veloce minchia si ahhh fanno come le mucche si ingazzano vi ingazzate vi state ingazzando e io v'ammazzo e io v'ammazzo ragazzi con questo otterremo allora innanzitutto tutti i villager che ci servono potremmo anche far la farm di smeraldi non che mi serva ma possiamo ottenere i villageri che sono merce rara in questo mondo dove tutti i villageri sono bloccati ok e inoltre possiamo ottenere le mob souls che ci servono per fare la stu apri perchè te ne vai cos'è questo ah ok guarda quanti no dai devo ritrovarlo quello lì che ci serve per ricreare il nostro amico drago 2 mamma mia mamma mia ma comandiamo ma comandiamo ma comandiamo ma comandiamo ma ti spacco la testa vieni qui ti spacco cari ragazzi posso dire con certezza che a parte questo piccolo incidente bla 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 ho dovuto mettere una di queste perchè altretti mi spuntavano mostri dappertutto questa puntata è un successone madornale non soltanto perchè abbiamo il mob spawner più OP della storia in realtà non è vero è molto più OP quello quell'altro però si fa più facile questo con cui ottenere le anime non soltanto perchè ho ottenuto anche un'anima di random spirits uccidendo i cosi non soltanto perchè adesso abbiamo le 4 anime utili per fare la pietra rituale della resurrezione ma perchè e non soltanto perchè abbiamo un fracco di villager che normalmente sono un po' un dito in the ass stavo per cadere nel vuoto dell'inferno molto bene ma e prima voglio fare la resurrection stone che non si chiama così forse è solo una S eccola qua stupido inglese ok ci vogliono 4 di questi minchia 4 di questi quindi 16 di queste oh shit ho finito le blue jam ma che cazzo stai dicendo oh no jam ah ma no ce l'ho ma ce le ho ma ce mi scusi ma lei ma lei non lo sapeva che ce l'avevamo che caspita mi sono impanicato non mi ricordo se si possono volverizzare queste mi pare di no va bene eccole qua thank you meno male ragazzotti meno male oppela 16 15 no il mangaloi abbiamo così questo incarescioso inconveniente buttando dentro l'eroteum dust che ci dovrebbe fare il ciccione on dust potete vedere che è velocissimo quindi purtroppo tutto il discorso ha ad effetto che avevo fa che volevo fare non si farà perché se è un pezzo di berda ci metti troppo tempo figa di no vabbè a noi ce le serve soltanto uno dai no non è vero non ce le serve soltanto uno ce le serve soltanto due però possiamo pazientare dai ragazzi possiamo pazientare per il bene di jesu jesu è un grande amico lo conosco sin dai tempi andichi oppela thank you queste sono le blue jam e devo andare di nuovo su nettuno a mettere un piccolo cuore devo andarci devo andarci eccolo qua ok signori ce l'abbiamo oppela la sedicesima mi devo ricordare di fare il mangaloi e buttarlo qua dentro se no non se ne esce ogni volta me ne mancherà si sono sedici perfetto andiamo a resu e anche un po rexion facciamo bam shbada bim perché non li vedi che ce li ho nell'inventario sarebbe una cosa bellissimissima e signori la resurrection stone oh fucking yeah ok ok e adesso non soltanto per tutto questo ma anche per un altro motivo io nel mentre che esponavano e li uccidevo sono riuscito ad addocchiare dei villager interessanti che voglio vedere insieme a voi tranne l'alien village che sinceramente non ce ne pippa proprio niente andiamo a prendere della stone per far ma ma marcus la tua idea è geniale grazie mio caro iscritto devo dire che sono molto felice che tu mi dici che sono geniale alle volte vi ricordate che avevo chiesto che farne del magazzino una bella casa di villager in realtà la casa di villager potremmo renderla non un magazzino però per ora la facciamo così e così e qui dovrebbero essere al sicuro i nostri amici villager sono al sicuro? allora andiamo a prendere un botto di smeraldi eh nerald ok ce ne abbiamo abbastanzina eccoli qua stanno arrivando copiosi fluenti ed alcuni sono probabilmente andati persi nel procedimento perché Gesù mi odia Gesù caro amico di tanto tempo fa che già l'ho detta questa battuta però mi è rimasta impressa non so perché allora andiamo a vedere subitissimamente qui che ci abbiamo allora ci abbiamo Ciccio Ciccio non è quello che pensate voi Ciccio c'ha un simbolo dietro che rappresenta l'infinito questo non è vero questo rappresenta Eros guardate qua oh 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 ci toglie dal cacchio le cose della pneumaticraft quindi lui è il mio villager preferito ok andiamo avanti no andiamo avanti qua hopperà guardate il suo fratellino guardate qua vende questa cosa io non ho idea di che cazzo sia questa cosa però sinceramente sono curioso di vedere che ci abbia dopo quindi ce li spreco volentieri questi ok si è bloccato perfetto visto che stavamo pure qua a questo punto hopperà hopperà e poi facciamo hopperà no si è bloccato anche lui andiamo a vedere vende stop pure lui e lui ancora niente perché ancora niente vende solo questo bastardo bastardissimo fammi vedere l'altro non me lo fa vedere è una persona orribile eccolo qui ok siete due stronzi siete due stronzi io speravo in qualcosa di meraviglioso ma vabbè lui invece è il villager dell'RF Tools signori guardate qua le dimensional shard vi ricordate che c'avevo un problema con le dimensional shard e non le potevamo avere se non facevamo prima una dimensione e quindi bla 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 signori ce ne abbiamo e ce ne abbiamo pure non poche vediamo che altro ci sblocca non lo scopriremo mai vabbè io queste intanto le butto no scusate no ma me ne date poche pensavo che fossero di più ah me le ha bloccate perché giustamente non posso tradarlo troppo quest'altro ccc invece ci dà gli annodimlet fantastico vedi si ecco esatto è un glitch sono un po' triste però poi potremmo sbloccarlo il bastardo e dovremmo risolvere la cosina ottimo 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 dove è andato merda vieni qui ancora non si è sbloccato di qua di qua non si è sbloccato non ho capito perché non si sblocca voi che siete più pratici di meccaniche vanillose me lo potete dire vediamo questo il nuke vabbè io te ne compro 57 no dai no ok 7 forse è meglio di qua abbiamo un altro di questi qui che ci dà un tipo di struttura però non mi interessa e quest'altro invece ci dà gli assembly program quindi ragazzotti diciamo che con questi villager ci siamo ovviati un pochino di rotture di bolle ma proprio un pochino io questo qui lo tolgo perché ho paura che il mio villager si trasporti da qualche parte toglierò anche questa crafting table stronzo perché mi stai sul culo e questa lavatrice così non potete lavarvi no vabbè dai vi faccio lavare la mettete qui allora per ora questo è il gulag dei villager guarda come tentano di evadere volevate evadere e invece devo alzare qui pronto si eccomi qua tra l'allero tra l'allà brutto brutto quanto la morte però per ora per ora facciamo che li teniamo qui dentro signori quindi abbiamo un botto di robetta abbiamo la resurrection stone possiamo fare il rituale del drago qui c'è mordor qui faremo mordor e se pensate che sia un progetto irrealizzabile vi provi cioè pensate a questo e pensate a marcus crone lo so che potrebbe essere non eccelsa ancora tutto quanto la mappa ma per marcus crone che faceva i cubi 64x64 vi posso dire che questo qui è il massimo dell'espressione estetica quotidiana non so perché quotidiana quindi noi ci vediamo stasera in live e dopo domani con una nuova puntata di minecraft guardatevi il video di ieri perché è un vlog molto importante per quanto riguarda il canale mi farebbe piacere che lo guardaste signore e signori io sono marcus crone bella per voi grazie a tutti Grazie a tutti.